Lampi, fulmini e set, mi tocca registrare di nuovo dentro. Benvenuti in quest'altro commento alla lettura della domenica, che è venticinquesima del tempo ordinario. Se c'è un termine che proprio nel gergo comune non si usa più, è la mitezza essere miti. Soprattutto perché si ritiene da deboli, non serve alle persone decise, non serve per contare e per valere agli occhi degli altri. Ma vediamo come questa parola taglia la prima e la seconda lettura. Nel libro della Sapienza si fa menzione, come in tanti altri testi, del fatto che quel servo eletto purtroppo è sempre preda della cattiveria, del male che è nel cuore degli uomini e che vuole vincere sul giusto, vuole vincere sul bene. Per l'odio viscerale che molti hanno su coloro che sono miti, su coloro che sono buoni, generosi, su coloro che amano la pace. E soprattutto perché il giusto, il buono, svela se stesso. Proprio in un confronto, come dinanzi ad uno specchio, la persona buona, la persona giusta, ama la verità, ama la luce, mette a disagio il malvagio e addirittura lo pone sotto il giudizio altrui. Per questo il giusto è incomodo e per questo lo si deve togliere di mezzo. Proprio San Giacomo, nella seconda lettura, ci ricorda come la gelosia è il principio di questa separazione, di questa cattiva volontà di mettere all'agonia, rimproverare il buono. Ecco, e invece che seguire la sapienza stessa, che pone la misericordia come un po' un metro di giudizio verso tutte quelle buone opere, tutte quelle buone azioni, coloro i quali professano la pace, vogliono la giustizia, usano la violenza e vogliono la guerra. Nel Vangelo di Marco, domenica scorsa era il capitolo 8, questa domenica è il capitolo 9, sta sulla stessa linea di affermare quello che deve accadere. Ai dodici, cioè quelli che noi chiameremo apostoli, racconta la verità, come lui dovrà essere condannato, essere ucciso e poi risorgere. E impartisce una lezione, chi vuole essere il primo si faccia ultimo e servitore di tutti. E poi pone un bambino nel mezzo proprio per indicare che chi accoglierà questo bambino accoglie anche lui e tutto ciò che viene da questo nuovo regno. E per regno, io in questo caso, intendo proprio la chiamata ad essere cristiani. In questo contesto proprio qui si gioca l'amitezza, la semplicità, l'umiltà e anche il servizio. Tutte cose che effettivamente non si notano molto nei social, non si notano molto né in televisione, né in radio e né nei mezzi di comunicazione di vario tipo. Se c'è qualcosa che non rende famosi è stare un po' dietro le quinte, lavorare in maniera silenziosa, non apparire mai, scegliere di non essere accendente in attenzione. Mentre oggi, sia con parole cattive e azioni altrettanto cattive, sia con bei discorsi, con bellezza, con sagacia, vendendo a destra in banca con fantastiche leggi di marketing, qualsiasi cosa, dagli attrezzi di bricolage al beauty, dai libri ai gamer, tutto batte cassa con i video, con le collaborazioni, insomma con tutta quella dimensione social e non solo. Non sto qui a fare il boomer, ma semplicemente sottolineo come ogni persona deve trovare la sua dimensione e al di là del web, del digitale o del mondo social, penso che noi dobbiamo affermare con una certa sicurezza quello che noi siamo. La nostra identità deve scoprire non solo i rapporti con gli altri, quelli veri, o il più veri possibili. Ma deve anche appoggiarsi su una sicurezza valoriale. Per cui tutte quelle persone che ricercano la semplicità, l'amitezza, la speranza, e mi sembra di dire che sono pure abbastanza poche, invece che aumentare i propri follower in maniera orizzontale, sicure e consapevoli della scala valoriale di quello che siamo, tendiamo di più a un rapporto umano diretto e non a una messaggistica immediata dei social. Beh, Gesù ce l'ha detto, colui che si pone nel servizio sta al primo posto. E noi, speriamo, come cristiani, dovremo tutti un po' desiderare questo primo posto agli occhi di Dio. Bene, io ho finito, come sempre, il mio buona domenica.